Nel 2016 questa ricorrenza importantissima dell'alluvione, lei c'era, aveva 19 anni. Sì, 19 anni, nel 1966 ero matricolo alla facoltà di ingegneria, furono sospese le lezioni da parte del rettorato, i miei abitavano a Montevarchi e facemmo una squadra per andare a togliere il fango, in particolare al carcere di Santa Viridiana, la parte a piano terra nella zona delle murate che era stato inondato in modo veramente rilevante. Oggi però lei mi fa una intervista davanti alle mura di Castelzecco, di Arezzo, cioè gli etruschi diversi millenni fa, quando costruivano, costruivano sulle alture e in particolare costruirono a Fiesole, non nella piana di Firenze. Firenze è a rischio alluvione, lo è stata nel 1966 e lo è tutt'oggi perché le opere a monte per prevenire il rischio idraulico non sono state assolutamente attuate o perlomeno attuate solo in parte. Insomma lancia una bella lettura perché questa ricorrenza porta sul piatto tantissimi temi, sicuramente il più importante è quello che diceva lei perché poi il passato dovrebbe servire a impostare il futuro, non è servito? Ora purtroppo non è nemmeno il caso di trasferire Firenze come le piramidi di Abu Simbel sul Nilo, va bene, deve rimanere rig dove è, ma per difenderla perché è patrimonio dell'umanità, una delle metropoli più importanti del mondo dal punto di vista della storia dell'arte e della storia politica anche, della storia bancaria pensando anche ai medici, per difenderla c'è da fare ancora tante opere che furono stabilite successivamente a questo evento, solo in parte in misura minima sono state fatte, tipo l'abbassamento delle soglie di fondo del Ponte Vecchio e di Santa Trinita, alcune casse di espansione, però non tutto è stato fatto come gli interventi di sfangamento delle dighe di Levano e della Penna, insomma tutta una serie di provvedimenti per evitare che Firenze possa avere lo stesso evento del 1966, in particolare trattenendo a monte di questa grande e meravigliosa città oltre 70 milioni di metri cubi d'acqua tramite casse di espansione e appunto interventi sulle dighe di Levano e della Penna.